A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Ventis, se escludiamo le solite nuvole nel pomeriggio, possibili su zona tornerilievi ma con basso rischio di fenomeni, vedete è lui l'anticiclone a governare il tempo in queste ore, in questo finire di fine settimana e quindi per la giornata di domenica, tempo buono, tempo discreto, poche nuvole un po' aumenteranno come detto nelle ore centrali della giornata sui rilievi, avremo però temperature calde, sì, ma senza particolari eccessi nonostante l'anticiclone africano, tuttavia la proiezione è per un periodo abbastanza caldo, senza particolari eccessi, lo ripeto ancora, ma abbastanza caldo, comunque vi terremo informati, vedremo se ci saranno delle variazioni nei prossimi appuntamenti meteo, nei prossimi aggiornamenti meteo, nei prossimi appuntamenti meteo, ve lo vi informeremo appunto se ci saranno queste novità, intanto io vi auguro di trascorrere una buona domenica, arrivateci.